Arrivare a convincersi che vaccinarsi fa bene senza necessità di obbligo sarebbe stato meglio. Meglio persuadere che obbligare. Su questo siamo tutti d'accordo. Però noi ci troviamo anche in una situazione di emergenza che continua. E in una situazione di emergenza che in questo momento vedrà implementare tutte le misure di convivenza più stretta. Penso alle scuole, penso al fatto che termini il lavoro in smart working, penso ai trasporti. Allora, nell'attesa che tutti si convincano che i vaccini fanno bene, incominciamo a vaccinarci. Anche obbligatoriamente. Il governo ci ha impiegato due anni a cercare di convincere il Paese a vaccinarsi, diciamo, spontaneamente. Ci è riuscito in una percentuale molto alta, nel 60% dei casi. C'è una frangia di persone che non si è vaccinata, a tutela della loro salute, nonché a tutela della nostra, si cerca di utilizzare lo strumento del Green Pass.